Non poteva mancare al NAB 2012 l'Autodesk, quest'anno presente con uno stand completamente incentrato su SMOK, software integrato di editing e compositing che negli ultimi anni sta subendo numerose trasformazioni per poter recuperare fasce di mercato perse a causa soprattutto dell'eccessivo prezzo e della complessità dei suoi prodotti di compositing di livello professionale. Ne abbiamo parlato con Maurice Patel, industry manager di Autodesk. Apple ha fatto un grande annuncement e, al stesso tempo, nuove tecnologiche come Thunderbolt e questi tipi di tecnologiche hanno fatto il costo di produzione di livello più alta. Con questo abbiamo nuove camera e più cost effettive. Quindi abbiamo visto due cose. Apple ha fatto un grande annuncement, tutti conoscono il final cut X annuncement, e il costo di acquisizione, costo di storage, costo di di rendere altissime, costo di rendere alto e il costo di gestione di ingi, e quindi abbiamo visto anche molti installi di installazioni di sviluppi. L'azvolta di sviluppi, non si stava stringendo il sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Ma non tutti stavano comprando l'accepzione di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. e non è un sistema di edizione, è più di un sistema di effetti. Quindi abbiamo re-designato il software per farlo molto più familiare per gli editori. Se sei un editor di Navit, Premiere, Final Cut, è facile per capire. Puoi imparare il testo e puoi iniziare immediatamente. Secondo, abbiamo preso il problema del prezzo, perché era un po' più caro per il vostro editor. Ma l'altra cosa che tutti sono interessati, è che gli effetti sono integrati nella applicazione di edizione, perché tutti hanno bisogno di fare un'acquietta, 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 di color correction. Questo è più e più comune per gli editori di fare questo tipo di cose. E oggi hanno bisogno di andare a altre applicazioni per farlo. Quindi sarà disponibile in settembre? Sì, il prodotto sarà disponibile in settembre. Però sarà disponibile in Juni come un testo pubblico, così che nessuno può, a nessun costo, downloadare il software e provare per 4 mesi. Ma in termini di parlare dei standardi, il nostro obiettivo è di supportare tutte le standardi. Sì, vogliamo di supportare la maggioranza di standardi possibili. Secondo, ovviamente c'è molti formati proprietari, quindi i populari, come Red, anche se non sono necessari standardi, sono cose che vogliamo supportare. In termini di sviluppo di JPEG 2000, dovremmo chiedere i nostri ingegneri. Non lo so. Grazie. Grazie a tutti.